Kate Middleton ha mostrato la sua cucina elegante durante il weekend del giubileo di platino mentre ha dato ai fan una sbirciatina all'interno della sua casa.express.co.uk ha parlato in esclusiva con un esperto di colori per scoprire come i fan possono aggiungere i tocchi interni della duchessa di Cambridge nelle loro case. Marianne Schillingford, direttrice creativa di Dulux, ha raccontato come il tema di Kate sembra essere un senso di calma con i suoi tocchi finali bianco e crema. La duchessa ha dato ai fan uno sguardo nella sua casa in un video della sua cucina con i suoi figli. George, Charlotte e Louis, prima del fine settimana del giubileo, Marianne ha affermato che un ambiente rilassante in cucina è importante, aggiungendo, la cucina è il cuore pulsante di ogni casa di famiglia e quindi rimanere calmi, calmi e raccolti sotto la pressione della cucina per una giovane famiglia può essere piuttosto difficile. Kate sa una cosa o due su come far sentire le persone a proprio agio e a proprio agio, quindi non sorprende che nella sua cucina utilizzi la tavolozza di crema più rilassata ed elegante combinata con tenue panna. Non è noto se il video sia stato girato a... Kensington Palace, la casa londinese del duca e della duchessa, o Adam & Roll, una casa con dieci camere da letto nella tenuta di Queen's Sandringham, regolarmente utilizzata dalla famiglia. I bambini possono essere visti montare cupcakes nel video condiviso su Instagram, Marianne ha aggiunto, bilanciando delicatamente i toni freddi e caldi per le diverse aree, puoi eliminare il calore anche dai pasti più frenetici. Il tema che hanno scelto in cucina è il classico country leggero e arioso che offre uno sfondo per la vita familiare che è estremamente adattabile per ogni occasione, proprio come loro. Il video mostrava anche alcuni degli elettrodomestici che i reali hanno usato per decorare la loro cucina, compresi alcuni con un prezzo elevato. Il fornello top di gamma riporterà i fan indietro di 4200 sterline, con il robot da cucina KitchenAid che costa 499 sterline. Ciao. Grazie a tutti.